Un ritorno in provincia di Ragusa, sempre al servizio dell'arma dei carabinieri. Questa mattina, durante una conferenza stampa ad occhi, il comandante provinciale Gabriele Genelli ha presentato alla stampa e alla città il tenente colonnello Giovanni Platani, comandante del reparto operativo, ne ho giunto al comando provinciale dei carabinieri di Ragusa anche se circa dieci anni fa aveva prestato servizio nel comune di Vittoria. 46 anni, originario di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, Platani ha frequentato il 178esimo corso dell'Accademia Militare di Modena nella scuola ufficiale dei carabinieri in Roma, conseguendo all'Università La Sapienza la laurea in giurisprudenza. Il capitano, Giovanni Platani, è stato comandante di compagnia, allievi di Fossano in provincia di Cuneo, addirretto del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Caltagirone, è stato in missione in Kosovo, comandante della compagnia di Molinelle in provincia di Bologna, ma anche, come detto, comandante della compagnia di Vittoria. Nel 2011, per trasferito ad Enna, è successivamente vice comandante in provincia di Siracusa. L'arrivo del colonnello Palatini su questo territorio corrisponde a una scelta istituzionale basata sulla sua esperienza, oltre che ovviamente sul gradimento personale. L'abbiamo detto, è stato in questo territorio anni fa a comandare la compagnia di Vittoria, è stato in altri territori dell'isola, in questo stesso incarico comandante del reparto operativo, parliamo della provincia di Enna e della provincia di Siracusa. E questo non può altro che essere un valore aggiunto di esperienza nell'approccio all'incarico nella zona ragusana, che ha delle esigenze precipue, ma sicuramente non scollegate dal resto del territorio dell'isola. Ho avuto quest'occasione di rientrare nella provincia di Ragusa con grande soddisfazione perché ho dei bei ricordi legati alla mia precedente esperienza come comandante della compagnia di Vittoria, che risale appunto a dieci anni fa. La nostra attività sarà quella improntata sicuramente a preservare il territorio e svolgere tutte quelle attività, sia dal punto di vista investigativo che informativo, che possano garantire alla provincia di Ragusa di continuare ad essere quella provincia che sotto il profilo sociale e economico è sempre stata riconosciuta come nell'area sudorientale della regione, come una provincia molto attiva, molto partecipativa anche da parte dei cittadini con grandi prospettive anche di evoluzione sotto il profilo turistico e commerciale.